Allora, le pubblicità hanno rotto le palle, sono tutte uguali, io pagherei per vedere una pubblicità diversa dal solito. La cena ti è rimasta sullo stomaco? Beh, questi sono cazzi tuoi, non è un problema nostro. Ma puoi sempre provare l'effervescente cadavere di culo. L'effervescente estratto di cadavere di culo fa talmente cagare che ti basterà un solo cucchiaino per sboccare tutta la cena, facendoti riposare beatamente. E te lo vendiamo a mezzo vuoto. L'effervescente cadavere di culo è un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo, non somministrare le teste di cazzo.